La protezione civile regionale approde in città organizzando un convegno informativo tra gli studenti. La prima tappa dell'iniziativa, quella di stamattina, all'Istituto Comprensivo Albani di Roccella, retto da Rosalba Marchisciana. L'incontro ha permesso di illustrare ai giovani della scuola materna ed elementari le azioni comportamentali da seguire in condizioni di emergenza. Noi siamo qui per parlare di protezione civile, soprattutto di indicare ai ragazzi quali sono le norme comportamentali da usare in caso di emergenza, ma anche per spiegare un po' cosa sono i rischi e poi visto che il Comune di Gela ha anche un piano di protezione civile di vedere come si applica il piano e quali sono le situazioni emergenziali che si possono affrontare. Comincia il tour dell'amministrazione per le scuole di Gela, quindi il plesso di Albani di Roccella dà il vio a questo percorso di formazione e siamo contenti di sapere che questo centro possa essere anche un centro di raccolta in caso di calamità che noi cerchiamo di scongiurare sempre, però riteniamo che l'informazione, la formazione e la prevenzione possa essere la condizione migliore per affrontare un'eventuale condizione di disagio. Era presente anche l'assessore Carmelo Casano. Partiamo con gli alunni perché è importante gli alunni che gli alunni sono quelli che portano le notizie a casa ai loro genitori e stanno a spiegare meglio dei grandi come comportarsi in caso di calamità. Noi abbiamo visto che in caso di calamità i primi disastri sono nelle scuole, quindi noi stiamo intervenendo sulle scuole, abbiamo presentato anche su questa scuola un progetto di 500 mila euro alla regione siciliana e siamo in attesa di finanziamento che abbiamo partecipato a un bando regionale, quindi speriamo che entriamo in gradatore come siamo entrati in altri progetti, quindi speriamo di continuare sulle scuole. L'informazione di protezione civile diventa indispensabile perché Gela ha un piano di protezione civile approvato, quindi è giusto che si sappiano quali sono i punti di raccolta, i punti di fuga in caso di calamità e alcuni momenti di raccolta come comportarsi senza creare panico nelle scuole. Uniconeo, la facilità di accesso per i piccoli della scuola Albani-Roccella in un'era devastata e donazione vandalica e non ancora ristrutturata.